Il Consiglio Comunale di Terni è stato recentemente teatro di un acceso dibattito sulla violenza di genere, che ha visto protagonista un atto proposto dalle minoranze. Il sindaco Bandecchi chiarisce il suo pensiero affermando di essere stato compreso da tutti gli italiani normali o sani di mente, sia maschi che femmine. Ha poi proseguito dicendo che l'Italia è piena di imbecilli e che capisce che per alcuni possa essere difficile comprendere le sue parole. Ha poi espresso la sua opinione sul comportamento degli uomini nei confronti delle donne, affermando che un uomo normale guarda il bel corpo di un'altra donna e forse ci prova anche. Se ci riesce allora ci va a letto, altrimenti torna a casa. Ha infine ribadito che le persone normali hanno capito cosa voleva dire. Mi hanno capito. Detto questo è vero che l'Italia è piena di imbecilli, quindi io capisco che per qualcuno sia un problema capire le mie parole, che rivendico tutte una per una. Un uomo normale guarda il bel culo di un'altra donna e forse ci prova anche. Poi se ci riesce se la tromba anche. Se poi non ci riesce invece torna a casa. Ora offendetevi quanto cazzo volete, ma questa è la mia idea. Chiusa con la mia idea, potete farne quello che volete. Ora voi dovete decidere se volete votare un emendamento sulla violenza di genere.